Poi c'è un'altra azione ancora più grave, forse, quella che si svolge a Modica. C'è una colonna di lavoratori che, accompagnata dall'avvocato Giovanni Vaiole, che è il leader dei socialisti modicani, si dirige verso Passo Gatta, che è una contrada nella campagna. È un momento di scoraggiamento. A compagno Vaiole, a cominciare il comizio. Compagni, braccianti, lavoratori, edili, ferroviari, compagni tutti. Oggi siamo qua a passare a te, non siamo picchi, non siamo picchi. E questi signori che ne stanno tali anni, le gozzano a sapere che noi altri ci siamo, che siamo uniti e soprattutto non ne scantiamo, non ne scantiamo. Grazie. Grazie.